Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, sono Eduardo Gori e qui siamo con Nicola Costa Bene ragazzi Al mare e qui faremo lo speciale 10 iscritti 10 iscritti, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo Vi invito ad andare a vedere il tuo canale Gansper30, tutto attaccato Che ha 5 iscritti E alla webcam c'è una nostra meca E qui faremo degli sciogli lingua finito Allora, 3 appunti 3 attesta di sciogli lingua Si fa dal 7 in giù fino al 13 Quindi io non scelgo uno per lui e lui non scelgo uno per me Chi non riesce a dirlo perde e non riceve un punto Si fa appunti Ok, inizio di perdere Vai Questo Qua Il 9 Il 9 Eccolo Sereno è, sereno sarà, se non sarà sereno si rassemererà E ora c'è? Sereno è, sereno sarà, se non sarà sereno si rassemererà Questo è un punto per Eduardo Boli E se ne sceglie per me Il 14 14 Ma si è, si Porta aperta Porta aperta Aspetta, anna, dico adesso Porta aperta Per chi porta Chi non porta Porta pure Per chi porta Porta aperta Porta pure Chi non porta Due punti per Eduardo Porta aperta Porta aperta Guarda Allora Ecco quello famoso L'11 È il suo incubo sto qui Vai forza C'è da Tipo Dieci anni Chi non riesco a dirlo Prea Vai forza 33 33 Trentini Entrarono Trotterellando Trottete Un punto per Eduardo Boli Allora Hai due chance 33 Trentini Entrarono Trotterellando In Trento Tutti e 33 Trotterellando Ce l'ho fatto Vabbè Siamo Due a due Questa è l'Italia Allora Te hai detto C'è l'uomo Allora Tassetto Con il 12 Il 18 Il 18 Sì il 18 Ma mi detesti Mi detesti Sì Eh Ti ho mai fatto l'Italia Non è vero Su tagliere Agli agli taglia Non tagliare la tovaglia La tovaglia Non è aglio E tagliarla è un grave Sbaglio Vado Allora Ceriamo Tre file Solo sbaglio E vinto lui Se lo fate ancora Andremo ancora avanti All'antaggi Finché non lo sbaglia Vediamo un po' Per farlo sbagliare Il 25 È l'ultimo Cioè quello più difficile Se il consiglio Gli agli pigli E togli gli agli E tagli gli agli È fagliato Se il coniglio Gli agli pigli E togli gli agli E tagli gli agli E tagli gli agli Sei il coniglio Vabbè Hai perso Due chance È un batardo Lui Vabbè 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 Dopo